un caro saluto amici del canale youtube Gianluca Rossi tv subito dopo Roma Inter 0 a 2 e anche Milan Lazio 2 a 0 quindi questa seconda tranche del duello tra Roma capitale e Milano industriale si è risolta interamente questa volta a favore dei milanesi perché oltre all'Inter che aveva già vattuto la Lazio ma Roma Milano era finita 1 a 1 settimana scorsa questa volta abbiamo fatto incetta come città di Milano rispetto a Roma 4 gol a 0 sommando i gol del Milan e dell'Inter c'era qualcuno che mi diceva a me sarebbe bello avvicinare la Lazio io invece onestamente speravo che fosse un pareggio tra Milan e Lazio perché in qualche modo avremmo lasciato più indietro ancora il Milan oltre che la Roma vincendo ma invece il Milan ha vinto meritatamente una Lazio devo dire ho visto entrambe le partite qui a Tene Lombardia una Lazio assolutamente irriconoscibile cioè voglio dire contro l'Inter la Lazio un po' l'ha giocata ma evidentemente la semicertezza della zona Champions data anche dal calendario piuttosto facile nelle ultime quattro partite ha fatto un po' rilassare la squadra di Sarri e però comunque complimenti al Milan che tra l'altro ha perso anche le AO però lo ha perso veramente per gli Euroderby adesso siete autorizzati e io vi ho sempre frenato adesso siete autorizzati a pensare agli Euroderby anche perché adesso ebbene sì si comincia con queste due grandi partite e quindi è giusto che ci pensiate prima vi frenavo un po' e dico cerchiamo prima di regolare la Roma l'abbiamo fatto adesso si può pensare agli Euroderby quanto a le AO sinceramente non ho ben capito mi è sembrato un problema all'adduttore normalmente un problema all'adduttore ti lascia fuori una settimana anche dieci giorni però chi lo sa a me non interessa ripeto perché poi c'è sempre la scusa se dovessi a me non avevamo le AO io spero invece che le AO sia della partita perché devo sempre augurare come fa qualcun altro qualcosa di brutto agli avversari francamente se le AO sarà della partita sono contento per lui insomma abbiamo vinto anche due derby nel 2023 e c'era c'era in campo le AO quindi poi devo dire che dopo l'uscita di le AO subito nel primo quarto d'ora il Milan invece ha disposto della Lazio alla grande se le Mekers ha fatto una grande partita cui vatte la pesca come dico sempre più i meriti del Milan o più i demeriti della Lazio resta il fatto che insomma hanno vinto 2-0 e quindi tanto di cappello perché non me l'aspettavo cioè non me l'aspettavo speravo insomma che avessero magari un altro intoppo invece l'intoppo ce l'hanno avuto in settimana con la Cremonese l'Inter invece devo dire che è andata piuttosto bene anche questa volta non mi ricordo rischi particolari per Onana dal trono della Roma in crisi devo dire che Mourinho che io adoro sapete è un po' troppo rissoso e devo dire anche anche la Roma a un certo punto l'ha messa un po' sulla battaglia sui fallacci sono una squadra veramente molto fallosa non a caso Palladino aveva detto l'allenatore del Monza al terreno di Monza Roma una vergogna quello che fa quella panchina che protestano per ogni cosa però ragazzi sapete che faccio sempre fatica a parlare male di un allenatore che mi ha dato tanto sto parlando di José Mourinho però mi sembra che anche lui abbia perso un po' la brocca e devo dire che la squadra in campo ho temuto a un certo punto dopo il nostro vantaggio che è avvenuto scusate perché me lo sono segnato che è avvenuto diciamo al minuto 35 se non ricordo male una bellissima apertura di Brozovic ma bellissima Brozovic migliore in campo eh ragazzi non accetto discussione è tornato a fare il regista veramente alla grandissima apertura di Brozovic per Dunfriss Dunfriss mette in mezzo questa bella palla questa sorta di tiro cross sul quale Lukaku si avventa ma non ci arriva e poi Di Marco e Di Marco sta diventando ragazzi comunque Di Marco tra una storia e l'altra adesso io non voglio metterlo al livello di Peris ci mancherebbe però il ragazzo della nostra cantera di Calvairate comincia a fare gol e assist importanti eh e quindi dobbiamo essere contenti primo tempo 1 a 0 ho detto ma speriamo che adesso non la buttino sulla rissa ci siamo permessi allora di gioco più o meno di mettere Lautaro per Correa Correa sempre massacrato per tutto però ragazzi non ci vuole poi Bellanova che a me non piace se qualcuno mi ha seguito in cronaca di Rama come tu ci dici di massacrare Correa e poi se prima massacrare Bellanova no? Insomma non mi sembra da Inter come non è da Inter Correa ma Correa avevi l'illusione che potesse esserlo a me pare che anche Bellanova non sia da Inter Bellanova ha sostituito Dunfriss poi devo dire che abbiamo fatto altri cambi abbiamo riproposto De Vrij per Di Marco Mkhitaryan per Ciananoglu insomma poi abbiamo trovato il 2 a 0 abbiamo trovato al minuto 75 però la Roma la stava mettendo un po' troppo sulla rissa li temevo o la disattenzione nostra perché ci abbassavamo un po' troppo forse anche per evitare botte da orbi che cercavano di dare quelli della Roma Roma che era comunque era berciata poi è entrata anche Di Bala ma si vedeva insomma che non era in condizione resta il fatto che Ibanez non è la prima volta che Ibanez fa delle cose ne aveva fatta anche una nel derby con la Lazio una roba terribile ha praticamente ceduto la palla Lautaro e Lautaro questa volta ha fatto lui il primo assist per Lukaku perché finora gli aveva fatti 4 Lukaku per Lautaro e stavolta Lautaro generosamente ha liberato Lukaku davanti al portiere Lukaku non mi ha fatto impazzire continua a lottare cioè si impegna per carità di Dio però rigole ragazzi lui da fermo ha guardato col sinistro la messa nell'angolo imprendibile per Rui Patricio comunque ho visto Brozovic che poi ci ha provato con un tiro dalla distanza poi è entrato anche Gagliardini poi Lautaro ha preso pure una traversa tra l'altro ragazzi vedendo scherzando Oshman ha segnato è andato a 22 ma Lautaro ha segnato pure lui e ne è andato a 19 adesso sto anche pregustando l'idea che il Toro possa insidiare per il titolo di capocannoniere Oshman hai visto mai sapete che Lautaro quando prende pum 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 segna raffica ecco se va avanti ancora hai visto mai che riesce anche ad acciuffare Oshman intanto noi noi si ha un punto a un punto dalla Lazio la Lazio ne ha 64 noi 63 al di là della Juventus che gioca con l'Atalanta adesso se proprio uno non so l'Atalanta e Juventus facciano quello che vogliono perché poi c'è anche la Roma è rimasta un po' staccata però insomma ci sono ancora quattro partite non lo so francamente devo dire che con questo successo però comincio a pregustare ma bisogna stare attenti ragazzi perché io ogni volta che abbasso la guardia questi me ne combinano una adesso insomma c'è Inter-Sassuolo però Inter-Sassuolo poi c'è Spezia-Milan lo Spezia si deve salvare però ecco sono partite che cascano in mezzo ai due Euroderby io già avevo segnalato tre motivi per temere questa partita uno il fatto che da Verona a Roma con i tempi ristretti solo 72 ore torni di notte il mercoledì il giovedì fai poco il venerdì riparti per Roma l'Inter non sarà allenata in più aggiungiamoci Murigno che aveva acceso terribilmente questa partita e quindi c'era da attendersi una Roma insomma che in effetti ci ha provato c'è un bel giocatore che si chiama Matic e poi il terzo motivo che avevo segnalato oltre ai pochi allenamenti è proprio l'idea di pensare già all'Euroderby io non so se hanno pensato già all'Euroderby a un certo punto in campo resta il fatto che il 2-0 è il risultato perfetto abbiamo battuto un'altra squadra che ci aveva battuto all'andata fateci caso come la Lazio come l'Udinese come il Milan le uniche che alla fine non avremmo battuto sono se non ricordo male la Juventus che però abbiamo eliminato la Coppa Italia e il Monza il Monza perché col Monza alla fine abbiamo fatto 2-2 là con un gentile annullamento di un gol validissimo di Acerbi da parte di Juan Sacchi ricorderete che ha fischiato prima e qua abbiamo perso 1-0 il 15 aprile lì è stato proprio l'Inter brutta più brutta sembra sembra ragazzi che siamo in filotto anzi non sembra perché mi pare che sia la quinta vittoria consecutiva considerando anche la semifinale di Coppa Italia e se non ricordo male scusate ma pregusto perché non è che sono abituato a queste cose qua mi sembra tra l'altro che sia il quarto clean sheet che se poi penso al gol che abbiamo preso con la Lazio praticamente un infortunio di Acerbi che non ha controllato bene il pallone beh insomma abbiamo preso un gol nelle ultime 5 partite siccome nel calcio oltre e adesso siamo più precisi adesso siamo più precisi sottoportare vi ricordate i gol che ci mangiavamo con la Salernitana insomma adesso non mi ricordo tutte le partite perché poi mi nervosisco adesso mi pare che dal secondo tempo di Empoli abbiamo preso ad essere a cecchini abbastanza precisi non è più il tempo che andavi a Luna Park puntavi al palloncino e ammazzavi la cassiera grazie a dio mi sembra che adesso il rapporto tra occasioni create e capitalizzate sia tornato quello di una squadra buona 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 normale una buona squadra quindi niente adesso ragazzi abbiamo archiviato devo dire molto bene questa trasferta di Roma che temevo vi ricordo che il calendario dell'Inter continua a restare anche nelle ultime quattro il più complicato anzi la partita più semplice forse Inter Sassuolo sulla carta ma con Sassuolo l'anno scorso avevamo perso 2 a 0 in più capita tra i due Euro derby quindi massima attenzione perché io continuo a parlarvi di campionato perché adesso stiamo parlando di campionato poi dobbiamo andare a Napoli tutti mi dicono ma Napoli campione sta festeggiando in coppa tutte cose io voglio vedere se al Maradona mettono giù un tappeto rosso all'Inter non credo ragazzi non credo poi c'è Inter Atalanta l'Atalanta mi sembra piuttosto lanciata e siccome l'abbiamo già battuta Bergamo non credo che verrà anche perché sarà ancora in corsa per ottenere un posto in zona Champions non credo che l'Atalanta verrà sorridente no qui allora e cioè quindi c'è da stare attenti pure all'Atalanta e poi l'ultima a Torino Granata dove magari lì mi auguro che almeno per la zona Champions non so se sarà secondo se sarà terzo può addirittura quarto posto però insomma io penso che lì i giochi perlomeno per la zona Champions che è vitale per il prossimo anno continuo a ribadirlo siano fatti per il resto e adesso sono i due Euroderby non è adesso appena finita Roma-Inter 0-2 sono tutto contento adesso non penso all'Euroderby su Leao vediamo perché ho visto un po' di nervosismo di Pioli perché a un certo punto a San Siro si è sparsa la voce che secondo me è molto offensiva per un tecnico io non so chi l'abbia messa in giro poi dei cronisti l'hanno raccolta che Leao già non stesse benissimo e ovviamente Pioli si è incazzato come una bestia che ha detto ma secondo voi in un momento del genere dopo copareggiato in casa con la Cremonese e che probabilmente ho perso uno scalino in questo momento per la volata Champions secondo voi io rischio Leao se ha già qualche problema proprio tre giorni quattro giorni prima dell'Euroderby e sono scusate ma io sono con Pioli sono con Pioli perché sono arci sicuro che Pioli ha un rischio del genere non l'ha corso Leao ha sentito ha fatto anche dei segni stava spiegando Origi che cosa ha sentito ha sentito probabilmente tirare l'aduttore e l'aduttore non è uno scherzetto però ragazzi io torno a dire anche perché poi Pioli io non so se è pretattica non so se veramente sicuramente si è fermato subito ora bisogna vedere se in tre giorni non avrà fastidio onestamente non sono qui a sperare che non ci sia Leao lo dico sinceramente io voglio che la mia Inter se deve andare in finale a Istanbul batta il Milan in questi 180 minuti e il Milan sia nelle migliori condizioni possibili sinceramente io voglio questo e poi qualcuno sarà contento se non ci sarà Leao attenzione perché poi scatta poi la sottovalutazione che non vorrei che quella che ha avuto la Lazio diciamo è uscito anche Leao tranquilli siamo la Lazio la gestiamo beccato due pappine a me sembra che il Milan sia in salute sia tornato in grande salute vedendomi la Lazio e posso dirvi è meglio così perché se noi abbiamo un difetto è sempre quello di andare o avevamo spero di poter usare l'imperfetto magari adesso finalmente questo difetto lo abbiamo curato dio mio voglio sperare in questo finale di stazione ne abbiamo sempre avuto il difetto di sottovalutare l'avversario beh insomma il Milan la viaggiava tutto due volte poi non ce leao poi in crisi ha pareggiato con la Cremonese bene che ha vinto con la Lazio così stiamo attenti così colleghiamo il cervello con questo ragazzi avremo tempo nei prossimi video editoriali di sviscerare ogni aspetto degli Euroderby intanto si è vinto con la Roma io sono tanto contento vi bacio viva l'Inter in effetto in effetto Grazie a tutti.